Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta al cocco e gocce di cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucchero, farina di cocco, fecola di patate, vanillina, sale, olio di semi di girasole, yogurt al cocco, latte, uova, lievito per dolci e gocce di cioccolato fondente. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. aggiungiamo sul fondo del boccale lo zucchero. Aggiungiamo l'olio, la farina di cocco, la fecola di patate, il latte, la vanillina, il sale, le uova, lo yogurt al cocco ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 5. aggiungiamo il lievito ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 5. aggiungiamo adesso le gocce di cioccolato che infarineremo con un po' di farina per evitare che scendano sul fondo. Le facciamo amalgamare per 10 secondi, anti-orario, velocità 2. Il composto è pronto, trasferiamo in una tortiera del diametro di 24 centimetri ben imburrata. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35-40 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. la torta è cotta, lasciamola raffreddare prima di rimuoverla dallo stampo. Torta al cocco e gocce di cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta! Ciao! Grazie a tutti!